Musica Allora andiamo avanti Ieri sera ci hanno fatto divertire perché canta una canzone e poi fa un balletto tutto particolare Già qualcuno che ieri sera era qui l'ha capito e si è fatta una bella risata per quelli che non ci sono che non c'erano ieri sera invece è una sorpresa e quindi io la presento subito Yolanda La Barbera Eccola qua la piccolina Allora Yolanda Guarda 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 ci stanno facendo la foto immortalando perché insomma ecco e quindi ieri sera tu hai colpito moltissimo per questo tuo balletto particolare guarda sempre lì Allora un'altra cosa che noi dobbiamo imparare ai ragazzi è quando stanno sul palco di guardare sempre le telecamere di guardare i fotografi perché è quello importante lo sai Yolanda? Eh? Lo sai? Ci fai rivedere stasera sto balletto? Come si chiama la calzone? Oloba de best di Mega Trainer vedrete vedrete delle belle vai all'ólo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti